la core del peplo una delle sculture più emblematiche dell'arte greca arcaica esposta al museo dell'acropoli ad atene datata tra il 540 e il 530 avanti cristo quest'opera rappresenta un punto di svolta nella scultura greca segnando la transizione dall'arte tipologica all'arte ritrattistica fisionomica la core del peplo è una statua femminile core che era originariamente parte di un'offerta votiva o funeraria in un santuario greco caratterizzata dall'elegante drappeggio del suo peplo la scultura mostra una delicatezza nei dettagli e una sensibilità artistica che prefigura la maturità del classico periodo greco a differenza delle precedenti effigie greche arcaiche che tendevano a essere impersonali e simboliche la core del peplo inizia a mostrare tratti più distintivi e personalizzati questo segna un importante sviluppo nella scultura greca dove le rappresentazioni diventano meno rigide e più espressive le iscrizioni sulle statue come la core del peplo riflettono un cambiamento nella percezione dell'arte nella grecia antica inizialmente queste iscrizioni sottolineavano il legame tra l'immagine e la persona raffigurata con il tempo tuttavia iniziarono a includere anche i nomi degli scultori riconoscendo così il loro lavoro come vere e proprie opere d'arte non solo come rappresentazioni funzionali o religiose nonostante molte delle sculture greche originali siano sopravvissute solo attraverso copie romane di qualità variabile la core del peplo è un raro esempio di arte originale conservata questa scultura non solo testimonia l'abilità artistica dei suoi creatori ma offre anche un'importante finestra sulle tecniche e gli stili del periodo arcaico greco la visita al museo dell'acropoli per ammirare la core del peplo offre agli appassionati di storia e arte l'opportunità unica di connettersi direttamente con l'antica civiltà greca questa esperienza non solo arricchisce la comprensione della storia dell'arte ma ispira anche un apprezzamento più profondo per l'antica cultura greca e il suo lascito al mondo la core del peplo rappresenta quindi un tesoro dell'arte antica simbolo della raffinatezza e dell'innovazione che caratterizzava la grecia arcaica e continua a essere una fonte di ispirazione e ammirazione per studiosi e visitatori di tutto il mondo video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando